Droga, risse, schiamazzi, sporcizie e danni. La movida di Avezzano fa scoppiare la rabbia dei residenti del centro, stanchi di sopportare le notti brave di chi vuole divertirsi in barba alle regole della civile convivenza. Mentre qualcuno ha cercato anche di farsi giustizia da solo con un gavettone di acqua e candeggina lanciato dal balcone, anche i commercianti iniziano a temere le conseguenze degli episodi che si moltiplicano. Quanto accaduto lo scorso weekend con l'accoltellamento di un minorenne ferito in modo lieve e l'arresto di un marocchino di 26 anni, oltre alla maxirissa in via Garibaldi e la rappresaglia di lunedì ai danni di uno straniero, stanno continuando ad alimentare la polemica. Chiediamo che ci possa essere più attenzione perché questo problema della sicurezza, già presente nella città di Avezzano anche prima del covid, non ci dimentichiamo che già in passato ci siamo dovuti confrontare con episodi di questa natura, venga a cessare perché altrimenti veramente si fa un danno. Questa fase 3 va gestita sicuramente con le pinze, dico questo perché non va gestita con il lasciar passare, lasciandare oppure essere troppo permissivi, ma va garantita una sicurezza soprattutto a noi gestori che già facciamo fatica con altre mille problematiche che ci sono attualmente per il covid, non possiamo sicuramente badare alla sicurezza fuori i nostri locali da soli. Grazie. Grazie. Grazie.